Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori coltelli da sopravvivenza. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il coltello tascabile da sopravvivenza pieghevole Beercraft. Si distingue molto bene nella top 4, non solo è offerto a un prezzo basso, ma è anche costituito da materiali di alta qualità. Il design, con la sua maniglia in alluminio e la lama in acciaio inossidabile è robusto e resistente. Ha una clip in modo da poterla trasportare facilmente con te, attaccandolo alla cintura. Esteticamente il suo bel design darà un tocco di eleganza quando lo appenderai alla cintura. Si noti inoltre che questo coltello da sopravvivenza ha un meccanismo di bloccaggio, pertanto sarà in grado di gestirlo e conservarlo in modo sicuro. Grazie alla sua versatilità, questo coltello da sopravvivenza pone maggiore enfasi su diverse manipolazioni e attività quotidiane. Fondamentalmente è un coltello universale che può aiutarti ogni giorno e persino salvarti la vita. Provalo e facci sapere il tuo pensiero all'interno della sezione commenti qui sotto. Come al solito su Top Tech, se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet, vai alla descrizione di questo video, avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il Gerber Beer Grills Ultimate Pro Survival Fixed Blade Knife. Certamente questo coltello da sopravvivenza è più costoso rispetto al precedente, ma una volta che lo avrai sarà una soddisfazione totale. Infatti, dal punto di vista estetico è veramente unico. Il colore arancione che puoi vedere direttamente sul manico del coltello ti consente di trovarlo rapidamente. Pertanto sarà difficile perderlo. Per alcuni è il miglior coltello da sopravvivenza del 2021, in quanto offre una buona presa ben bilanciata verso la parte anteriore della lama. Questo lo rende pratico, robusto e versatile per escursioni nella foresta, nei fine settimana o durante le vacanze. La sua lama in acciaio lo rende un coltello da sopravvivenza di buona qualità. Solido e resistente, puoi quindi gestirlo come desideri senza il rischio di rovinarlo. Tuttavia, l'unico inconveniente da notare è che viene fornito con un manuale in inglese. Al secondo posto abbiamo selezionato il Gerber Survival Knife Beer Grills 2231-0010-63. È un coltello esteticamente bello e difficile da perdere grazie al colore arancione. Inoltre, è lungo 12 centimetri e spesso 5 millimetri, sul suo lato non affilato. È noto per la sua estrema resistenza grazie alla sua lama affilata e appuntita. Sarà in grado di tagliare sia pallet che rami. Inoltre, sarà in grado di affilare il coltello nel mezzo delle tue escursioni nella foresta, in campeggio selvaggio o in bivacco. Fondamentalmente è un coltello da sopravvivenza che ti seguirà ovunque. Ha anche un fischietto, posto con una cinghia sul retro della maniglia. Sarà facile segnalarsi e ritrovarsi nella foresta quando si è lontani dal gruppo. La cosa che ti consigliamo di fare è di provarlo e di scriverci il tuo pensiero direttamente nella sezione commenti qui sotto. Ti ricordo infatti che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet, clicca sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato il coltello da sopravvivenza EZ RC 6P modello 6 da 29,84 cm. È progettato con una lama in acciaio al carbonio 1095. È un acciaio di alta qualità trattato con un materiale termico. Pertanto è una buona scelta se si prevede di utilizzarlo in condizioni difficili. L'acciaio del coltello non è troppo duro, quindi non si rompe facilmente. Inoltre, non è nemmeno troppo morbido, il che gli consente di mantenere il taglio per un lungo periodo di tempo, senza essere danneggiato. Il suo spessore della lama di 4,7 cm e la sua lunghezza di 19,5 cm contribuiscono alla sua estrema solidità. La sua più grande risorsa è il suo essere stato pensato come coltello da campo per i suoi mille usi. Un soggiorno nella foresta non sarà altro che pura avventura e felicità e anche un coltello perfetto per tagliare rami e per lavori più impegnativi. Ad esempio, staccare tronchi destinati alle stufe a legna. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare click sui link per ottenere tutte le caratteristiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, mettici un mi piace e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta, qui su Top Tech. Ciao!